Signori, prima di iniziare il video vorrei farvi vedere alcune decorazioni che ho messo post-produzione quindi voi durante il video non le vedrete eccoci un tappeto, qualche zucca, porio, un paio di lapidi e una manina di uno che si chiama un vampiro quindi detto questo vi lascio il video e buona visione eccoci bec amici bentornati in un nuovo video sul mio canale in un nuovo video di House Flipper allora, c'è stato un aggiornamento del gioco, chiaramente e dice che c'è una nuova casa ma io non so quali sia questa casa c'è una casa di Halloween ma non lo so non saprei, non saprei proprio di che casa si possa trattare ma va bene così a questo punto noi ce ne andiamo a fare qualcosa andiamo qua per favore evitatemi il pago ok eccoci qua probabilmente questa casa, quello che ho letto è un casino totale non voglio questo buttiamo via tutta sta roba madonna cosa c'è che deve fare uno schifo incredibile ma no, ma che è sto rumore? scarafaggi? oh madonna ma che schifo ci sono le scarafaggi, oh mio dio qua puliamo tutto dice pure se hai paura di scarafaggi devi stare attento che devi cambiare l'opzione senza te vabbè io non ho paura di scarafaggi quindi andiamo a farcela guarda qua guarda qua oh madonna chiudiamo questa ma che scappa madonna ma che qua questa è la casa degli studenti ma ha arrestato gli studenti questi sono ubriaconi va bene va da qua guarda qua che porcaria allora ma questi studenti per davvero sono studenti o sono edelcolizzati cronici? madonna ma che hanno combinato guarda qua guarda qua che schifo e guarda qua ma tutto è nascosto ma che schifosi maledetti sono degli schifosi maledetti guarda qua aspiriamo tutto ghostbuster schifosi scarafaggi guarda qua come fanno a vivere in questo modo cioè via via tutti questi scarafaggi schifosi guarda qua guarda qua ok ha distrutto il nido puliamo va che è meglio eppure sul divano non sozzato tutto quanto guarda qua guarda qua schifosi luridi ovunque ovunque mamma mia aspiriamo pure questi che già che ci siamo li uccidiamo tutti insomma fanno anche un po' schifo eh dai insomma poi ci le persone hanno paura di scharafaggi non si credo cavolo fanno uno schifo totale guarda qua e finiamo di scopare qua perché tutto schifoso ok compriamo qua il radiatore va hanno cambiato tutto guarda qua schiamo qua radiatore eccolo qua che bello adesso bellissimo questo nuovo aggiornamento eh bello bello si ok e abbiamo fatto pure questo no madonna madonna che schifo guarda qua questi ma erano davvero degli ubriaconi incredibili cioè guarda qua guarda qua quante bottiglie quanto possono bere le persone anche qua anche qua una bella pulizia va fatta chiaramente guarda mamma mia lasciamo perdere lasciamo perdere mettiamo qua un altro radiatore qua un bel termosifone di quelli giusti e qua se i studenti sono stati un po' un po' monellini hanno rubato pure i termosifoni mi pare aver capito pulisci la finestra eh puliamo la finestra facciamo che fanno le cose fatte bene perché più facciamo più ci pagano quindi gg per noi eh ok a posto ho finito qua 94% non saprei proprio dove mi manca ok ecco c'è il bagno mamma mia la monnezza ovunque guarda qua una discarica questa casa una discarica fa schifo guarda qua prendiamola un posto migliore un nuovo puntabilità pure bene bene pulizia cosa facciamo ah facciamo questo vediamo tutto lo sporco che c'è che almeno oh guarda lì meglio che non lo facevo va che non vedo lo sporco va mamma mia non riusciamo a pulire meglio le case vedo tutto lo sporco qua che c'è facciamo un sacco di punti miglioriamo tutto ok mettiamo qua un radiatore come al solito ok e lo montiamo un altro dispositivo da mettere sarà una presa forse ma no una lavatrice ah mettiamo anche una lavatrice dai che ci importa che ci importa vediamo la va la va eccola qua e montiamola pure a questo punto allora vediamo un po' questa lavatrice che cosa come si monta una lavatrice ecco addirittura ma è bellissimo montare le lavatrici voglio diventare anche io un montatore di lavatrice a questo punto eh cavoli bellissimo è bellissimo guarda forca miseria ma ma è incredibile è incredibile ah ma era questo tubo qua era min che mi ha mi hai fatto dannare che non capito dove fosse questo tubo qua non mi hai montato una lavatrice eh questo spero possa essere usato anche di scolpa dai ah quest'altro tubo ho finito oh bene puliamo questa la finestra è facile dai questa la so fare dai mamma mia mamma mia e di studenti bebitori vada qua la scatola la scatola ovunque ma come è possibile cioè dove vanno le scatole puliamo va vediamo un po' dispositivi pulici la finestra questo lo risparmio dai insomma sappiamo tutti come fare qua il radiettore oh ecco qua un'altra stanza incredibilmente lurida cioè adesso sono stato studente anche io ok non sono mai andato a vivere in un'altra casa ma se fossi andato a vivere in una casa in affitto io cos'cavolo che mi faceva una roba del genere allora non ho affitto tanto voglio guarda qua hanno imbrattato tutto guarda qui guarda qui che schifosi maledetti oh sporco cioè dappertutto ok questa è la finestra più sporca che abbiamo mai visto effettivamente in tutto questo c'è ancora rifiuti ah era era quello rifiuto ok facciamo subito qua il radiatore ok e questa è la seconda finestra dai ci siamo facciamo tutte queste belle cose poi c'è anche da dipingere tra l'altro ok dipingi colore bianco ah allora prendiamo il bianco acquista ok questo vuole da nero a bianco contento lui contenti tutti assolutamente basta che mi paghi sinceramente 91% che mi manca forse forse questi qua forse ma eccolo qua dove mancava eccolo qua io non facevo cosa a caso e niente devo comprare un altro bianco ho finito peccato che non posso più vendere le cose non ho più qualcosina per vendere non so perché ma non l'ho più forse non so se è un bug o qualcosa ma non saprei paura ad entrare in questa camera qua questa casa fa veramente schifo ma tutta installiamo qua un radiatore da bagno radiatore da bagno installabile eccolo qua e montiamolo pure tanto qua il mister Nicola qua è presente per montarvi ogni cosa mister tuttofare Nicola è qui per montarvi qualunque cosa eccolo qua radiatore da bagno e un lavello e un lavellino dai ci sta ci sta il lavello svitiamo e la nuova puntabilità tuttofare intanto cattura più veloce dai giusto che non faccia mancare mai niente lavello dicevamo ecco qua il lavello montiamolo eccoci qua abbiamo finito? ancora no manca solo questo ok bello rapido indolore io ho fatto pure questo che ci manca ancora? è lunghissima sta casa eh è lunghissima oddio ma è troppo lunga è troppo troppo di qualunque cosa questa casa cioè gli studenti perché non le hai denunciati? sono andati a denuncia che ne deve buttare ancora? che c'è da buttare ancora? ok una bella di pulita adesso potete spiegare cosa avete fatto avete sgommato sul letto cioè mamma mia ok vabbè e le solite cose il radiatore e finestre e vabbè e le risparmio ci siamo qua ho finito e qua ancora uno sporco totale guarda qua questa è che a passi gli studenti gli spaccari gli farei mettere queste bottiglie non posso dire dove ecco mannaggia guarda qua guarda qua che schifezza ma una bella pulizia ancora perché chiaramente i lati sporcano e io pulisco ok abbiamo avuto l'ordine al 100% fine mi paga 4000 attenzione buona buono 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 ok nuova puntabilità pure meno requisite degli ordini va bene possiamo finire gli ordini prima va bene va bene va bene andiamo a casa ok bene per questo video è tutto nel prossimo episodio compriremo una nuova casa mi sa quindi vi ricordo di commentare condividere mettere mi piace e fai tutte queste belle cose ciao ciao ciao